Giuseppe, come stai? Come sempre c'è un sacco di vento Mi ha fatto un giretto Saranno sì, no 30 Guarda, voglio vedere quanti chilometri sono Voglio vedere 52 chilometri, allora 52 chilometri E il ragazzo mi è stravolto Non sono stravolto, sono morente Non sono morente Però è bello, è un bel percorso Ti piaciuto? Lo stiamo formando ragazzi Stiamo temperando Allora, ciao